Ciao a tutti e ben ritrovati con il nostro appuntamento. Oggi vi parlerò di un argomento super interessante e super nuovo, le nanotecnologie e come le sfruttiamo nella nostra pratica medico-dentale. Anzitutto, le nanotecnologie in questione sono queste. Stiamo parlando dei dispositivi medici TaoPatch. Questi dispositivi sono nati di recente e trovano una grandissima applicazione poiché migliorano appena applicati nel corpo. Su punti specifici, migliorano il movimento, migliorano l'equilibrio posturale della persona, migliorano la flessibilità, agendo direttamente sul sistema proprio eccettivo, che è quella rete fitta di recettori che comunica con il sistema nervoso centrale e permette il mantenimento del nostro equilibrio e del nostro stare in piedi. Ma non solo. L'ambito di applicazione del TaoPatch è molto vasto perché agisce anche sull'eliminazione del dolore dovuto dai rati schemi posturali, va a decontrarre e detenzionare le zone appunto tese e contratte, migliora lo stato metabolico, migliora lo stato energetico, lo stato posturale. Insomma, l'ambito di applicazione è molto vasto. Sostanzialmente il dispositivo funziona migliorando la comunicazione tra il sistema nervoso centrale, quindi il nostro software biologico, con tutti i recettori deputati appunto al mantenimento del nostro movimento e non su stare in piedi. Questo perché è importante migliorare questa comunicazione? Perché sostanzialmente nell'epoca in cui viviamo il nostro corpo è sempre di più inquinato da come viviamo, dalla nostra alimentazione, da come respiriamo, dal lavoro, dalla sedentarietà e non solo, dall'inquinamento anche ambientale, elettromagnetico, chimico. Questo porta il corpo a sviluppare una serie di squilibri dati appunto da una cattiva comunicazione tra il nostro cervello e tutti i distretti corporei. Quindi il dispositivo è stato studiato apposta per garantire immediatamente un riequilibrio posturale con tutti i benefici annessi. Perché? Perché sostanzialmente lavora attraverso l'emissione di fotoni della stessa lunghezza d'onda di quella utilizzata nella terapia laser ultradevole e emette fotoni della stessa lunghezza d'onda di quella che viene utilizzata dalle nostre cellule per comunicare tra di loro. Quindi il dispositivo aiuta il nostro corpo a comunicare bene. Chi può utilizzare il tau patch e chi ne trae beneficio? Tutti possono utilizzare il tau patch. Tutti ne traggono beneficio. In condizioni di vita quotidiana come al lavoro, durante il riposo, durante il recupero ma anche in condizioni di sport e di attività sportiva. Pensiamo ad esempio agli atleti per recuperare le proprie prestazioni, per migliorare anche le proprie prestazioni. Ma viene anche utilizzato nell'ambito di patologie, quindi patologie posturali piuttosto che patologie neurologiche e tanto altro. Noi utilizziamo in tutte le nostre pratiche questi dispositivi perché aiutano a migliorare tutti i trattamenti di studio in ambito odontoiatrico, in ambito posturale, in ambito logopedico, in ambito fisioterapico, osteopatico, nutrizionale, insomma. L'ambito di applicazione è davvero completo nel nostro studio a 360 gradi. Bene, ovviamente vi ho fatto un super riassunto di questo argomento. C'è da scoprire molto di più, non vi resta che scoprirlo assieme a noi e provarlo. Ciao!